Buonasera a tutti, benvenuti e benvenuta specialmente a Clelia Crialesi. Oggi affrontiamo una delle fondamentali arti del quadrivio, cioè l'aritmetica, e appunto lo facciamo con Clelia Crialesi, che si è formata originalmente a Roma, poi ha lavorato al Pontifical Institute di Toronto e attualmente è all'Università di Leuven in Belgio. È autrice di vari studi sull'aritmetica di Boezio, sulla tradizione esegetica di questo testo, su Abbonne di Fleury e su alcune delle grandi figure della filosofia naturale del XII secolo, come Gugliano di Conscio e Teorico di Cialtro. Il titolo che ci ha dato e che è sulla locandina è Le principali fonti di aritmetica nell'alto medioevo, ma se ho capito bene da un messaggio che mi è arrivato, e adesso ce lo potrà confermare lei, in realtà intende fare un discorso anche più ampio e non limitato all'alto medioevo, cosa che ci rende estremamente felici. Quindi, diciamo, benvenuta e grazie di aver citato il nostro invito, e a te la parola, Clelia. Bene, grazie per l'introduzione. Allora, buonasera a tutte e tutti. Sono molto contenta di essere qui, seppur in modalità virtuale. Permettetemi di ringraziare innanzitutto i responsabili e gli organizzatori del seminario per avermi dato la possibilità di condividere con voi un tema che è stato e continua ad essere a suo modo parte delle mie ricerche. Allora, come potete evincere dal titolo del mio intervento, che appunto ho modificato poiché ho ampliato un po' i contenuti, oggi vorrei concentrarmi sulle fonti principali dell'aritmetica nel Medioevo, quindi non soltanto nell'alto Medioevo, e su alcuni snodi appunto altrettanto fondamentali. Perché? Perché almeno da un punto di vista di storia della scienza, avere contezza delle fonti e dei testi principali significa anche poter individuare gli snodi fondamentali nello sviluppo di questa disciplina. Allora, prima di addentrarci nei dettagli delle trattazioni dell'aritmetica offerte dai medievali e di vedere magari anche qualche implicazione filosofica di questa disciplina, vorrei, diciamo così, fare chiarezza innanzitutto su cosa si intende con aritmetica nel Medioevo. Allora, parlare di aritmetica nel Medioevo non può essere fatto in modo univoco, se non altro perché è possibile distinguere, delineare diverse declinazioni dell'aritmetica nel Medioevo a seconda dell'oggetto specifico delle trattazioni, delle finalità e delle metodologie soprattutto impiegate. Allora, è possibile innanzitutto introdurre una macro distinzione tra un'aritmetica di tipo speculativo e un'altra di tipo pratico. Per quanto riguarda l'aritmetica speculativa, diciamo che è praticamente sovrapponibile a quella che viene definita come teoria dei numeri. Che cos'è la teoria dei numeri? Non ha come oggetto, diciamo, il numero e il calcolo, cioè non ha come oggetto le operazioni di calcolo, ma si concentra piuttosto e indaga il numero in sé, un numero in sé che può essere inteso come quantità discreta non relata, cioè non posta in relazione ad altro, come potrebbe essere ad esempio il movimento. E dunque, non indagando, diciamo, le operazioni di calcolo, le operazioni aritmetiche, la teoria dei numeri, diciamo, offre e indaga, diciamo così, le proprietà dei numeri, le proprietà essenziali dei numeri, come possono essere il pari e il dispari, e le loro relazioni reciproche, i loro rapporti. Di che tipo di numeri stiamo parlando? Ovviamente a quest'altezza cronologica si tratta esclusivamente di numeri naturali interi, cioè razionali. E a proposito di fonti principali, tra gli autori che si sono occupati di teoria dei numeri, vi è senz'altro Marziano Capella, e più nello specifico il libro 7, dedicato appunto all'aritmetica delle nozze di filologia e mercurio, ma un testo ben più importante, perché molto più influente nel Medioevo, nella storia della filosofia medievale, il di aritmetica di Boezio, ma ancora il libro dedicato alle scienze, alle discipline matematiche, delle etimologie di Isidoro di Siviglia, ma ancora spostandoci un po' più in là, più precisamente nel XIII secolo, Giordano di Nemi, Giordano Nemorario, con il suo De Elementis Aritmetice Artis, su cui ritornerò in seguito, ma ancora nel XIV secolo, Thomas Bradwardine con l'aritmetica speculativa, un testo che, appunto, alla cui edizione critica, l'unica edizione critica risale alla fine del XV secolo. Tutta altra questione per quel che riguarda, invece, l'aritmetica di tipo pratico. In base alle metodologie che vengono selezionate, scelte e applicate, si possono distinguere diverse forme di aritmetica pratica, a cominciare con quella che viene definita come loquela digitorum, letteralmente il parlare delle dita. Non si tratta più di, diciamo così, indagare le proprietà aritmetiche dei numeri, ma si tratta di svolgere vere e proprie operazioni di calcolo con l'ausilio delle dita. Per darvi, appunto, un esempio, per spiegarmi meglio, diciamo così, e per capire in che cosa consista la loquela digitorum, il suo meccanismo consiste nell'assegnare un valore numerico specifico alle cifre di un prodotto, di un moltiplicando, dei prodotti e dei moltiplicandi in base alla posizione che queste cifre occupano sulle articolazioni della mano, come potete immaginare dall'immagine che io ho tratto da un manoscritto vaticano e forse ancora meglio dall'immagine che è stata inserita sul poster dell'incontro di oggi. Quindi, appunto, si assegna un valore numerico in base alle cifre che costituiscono i numeri da moltiplicare, da dividere o risultanti come prodotti, in base, appunto, alle posizioni, alla loro posizione sulle articolazioni della mano. In realtà non si tratta soltanto di la loquela delle dita, perché in realtà questa metodologia, questo tipo di aritmetica pratica può coinvolgere in realtà altre parti del corpo, come ad esempio il bacino, le spalle, la testa stessa, via via, che i numeri divengono sempre più elevati. E non a caso, proprio per questa ragione, Marziano Capella, sempre nel settimo libro delle nostre di Filologia e Mercurio, si riferiva a questa pratica di calcolo come danza del corpo. Ma andiamo avanti, individuando ancora un altro... Ah, pardon, ovviamente chi si è occupato, diciamo così, la prima trattazione sistematica di questo tipo di aritmetica, di questo tipo di calcolo con le dita, si deve a Beda e il Venerabile, dunque nell'VIII secolo, nel quarto libro del De Temporum Razione. Ovviamente le liste che vi sto presentando non sono esaustive, quindi in questo caso avrei potuto citare molti anonimi, soprattutto irlandesi, ma anche a buone di Fiori nel decimo secolo. Ma andiamo avanti e lasciamo da parte la locuela di Gitorum e concentriamoci appunto su un'altra forma di aritmetica pratica che ha appunto anch'essa a che fare con le operazioni di calcolo, le principali quattro operazioni di calcolo, cioè addizione, moltiplicazione, sottrazione e divisione. Si tratta appunto di operazioni aritmetiche con l'ausilio non più delle dita, ma di tabelle e la grande svolta che portano con sé questi trattati, questi scritti di Abaco è la cosiddetta rappresentazione posizionale. Parlo di rappresentazione posizionale, non di sistema posizionale, perché? Perché in realtà all'interno della trattatistica sull'Abaco continuano ad essere usati i numeri romani che non rispondono assolutamente a una notazione di tipo posizionale, al sistema posizionale. Devo però, infatti, come vediamo dall'immagine al centro che vi ho riportato, forse un po' piccola, i numeri appunto sono ancora quelli romani, ma possiamo parlare di rappresentazione posizionale per quanto riguarda la struttura stessa dell'Abaco, ovvero le colonne entro cui vengono collocati i numeri romani hanno un valore posizionale, dunque si possono inserire numeri romani nelle colonne delle centinaia, delle decine, delle migliaia e così via. Ho detto che continuano ad essere usati nella trattatistica dedicata all'Abaco i numeri romani, ma devo fare appunto una precisazione che riguarda la notazione arabo-indiana. Allora, apro una breve, spero, ma doverosa parentesi sull'entrata in occidente dei numeri indiani. Tra l'undicesimo secolo e il dodicesimo secolo il mondo latino e il mondo arabo condividono lo stesso linguaggio matematico. Che cosa intendo? Intendo dire che si condivide la stessa notazione cosiddetta indiana. parallelamente a questa notazione indiana cosiddetta di tradizione orientale, cioè i numeri arabi per come li conosciamo ancora oggi, si diffonde nell'Europa continentale medievale latina un altro tipo di notazione che si sviluppa appunto a partire dalla tradizione orientale delle cifre arabo-indiane. E questo nuovo set di figure, di cifre, viene detto appunto di tradizione occidentale ed è appunto l'origine dei numeri per come li conosciamo e li usiamo ancora oggi. Per darvi un esempio di questa biforcazione di tradizioni per quanto riguarda la notazione arabo-indiana nella figura più in basso e a sinistra che ho riportato e ho preso da un manoscritto del dodicesimo secolo il primo set di cifre vengono definite dal copista come toletane ovviamente a indicare proprio l'origine in cui l'origine da cui parte appunto questo tipo di tradizione dei numeri mentre il secondo set di cifre vengono appunto definite indice figure e che sono appunto la cosiddetta tradizione orientale dei numeri arabo-indiani la terza cifra invece semplicemente rappresenta i numeri che il copista andrà effettivamente a utilizzare nella copia dei testi nel codice per avere un'altra idea semplicemente dei numeri arabo-indiani di tradizione occidentale possiamo anche far riferimento ai numeri che ho scelto per elencare le parti dell'aritmetica pratica e speculativa sono dei numeri più o meno familiari perché alcune delle cifre sono capovolte ma sappiamo ovviamente grazie a studi ormai classici di Guy Bourgeois che questo capovolgimento delle cifre si deve proprio all'utilizzo al loro utilizzo sui gettoni impiegati sull'abaco una prima testimonianza della diffusione dei numeri arabo-indiani comunque sia in Europa e soprattutto della tradizione occidentale possiamo rifarci anche all'altra figura che appunto ho inserito in corrispondenza di Apices che rappresenta appunto gli Apices gli Apices sono i numeri che vengono diciamo così associati e impiegati nella trattatistica di Abaco e proprio a testimonianza di questa primissima diffusione delle cifre arabo-indiane in occidente possiamo notare tra i tanti elementi il fatto che sono trascritte ancora da destra a sinistra e chi si è occupato allora di Abaco come io ho già detto appunto le cifre arabo-indiane entrano già entrano prima in realtà dell'undicesimo secolo in realtà entrano nel decimo secolo nell'occidente latino ma smentisco magari una credenza abbastanza diffusa ovvero che Gerberto le abbia usate nelle sue spiegazioni che riguardano le regole dell'Abaco in realtà Gerberto continua a usare la notazione romana e non quella arabo-indiana ma Gerberto d'Origliac è appunto diciamo così il primo o quasi il primo che si occupa di Abaco non soltanto nello scritto appunto che si conosce come regola di Abaco Computi ma anche in alcune delle sue epistole cosiddette scientifiche contestualmente a Gerberto d'Origliac c'è Abone di Flory che in realtà non si tratta proprio di Abaco ma c'è un dibattito ancora in corso ma possiamo dire che Abone si riferisce all'Abaco nel suo incalcolo Vittori che è un commento a una serie di tabelle di moltiplicazioni e equivalenze ma anche divisioni e sottrazioni di Vittorio di Aquitania che appunto compone questa serie di tabelle nel V secolo invece chi è allora che possiamo individuare come responsabile dell'introduzione delle cifre arabo-indiane nella trattatistica sull'Abaco ecco è Bernelino nel suo più precisamente Liber Abaci Bernelino è un un allievo di Gerberto di Origiac ma ancora più avanti nel XII secolo possiamo anche richiamare Turchillo con le sue reguncole superabacum di Turchillo non sappiamo assolutamente niente se non che appunto ha composto queste reguncole superabacum che sono state edite nel 1882 da Narducci quindi è passato un po' di tempo ancora un altro tipo di aritmetica pratica è quella che si occupa di frazioni che cosa sono le frazioni le frazioni sono rapporti tra numeri e rappresentano appunto delle divisioni tra quantità e più precisamente tra quantità intere come vengono rappresentate le frazioni non nella forma con cui le conosciamo noi oggi cioè numeratore e denominatore ma per mezzo di simboli che vedete che vi ho riportato sulla destra del riquadro una cosa importante da sottolineare è che l'uso delle frazioni in ambito aritmetico anzi le frazioni in ambito aritmetico sono concepite su base duodecimale cioè in base 12 dunque l'intero è sempre sezionato in in dodicesimi in aliquote che corrispondono a dodicesimi a cosa si deve questa base duodecimale si deve diciamo all'originario utilizzo delle frazioni soprattutto in età antica e tardantica dell'utilizzo delle frazioni in ambito delle misurazioni dei pesi e più avanti soprattutto in epoca tardo alto medievale in ambito delle misurazioni del tempo la base duodecimale era effettivamente una base conveniente tramite cui far di conto soprattutto in ambito computistico cioè del computo della determinazione del calendario liturgico perché basta pensare ad esempio al fatto che il giorno il giorno consiste di 24 ore e dunque i multipli del 12 e i sottomultipli del 12 ritornano più volte in questo tipo di partizione temporale dunque la base duodecimale è molto conveniente ma sopravvive ancora oggi ad esempio in America per quanto riguarda invece le misurazioni se pensiamo ad esempio che un piede corrisponde ancora a 12 pollici ma all'ilà di questa notazione un po' così fuori pista tra gli autori che si sono occupati di frazioni devo di nuovo menzionare Abboni di Flory sempre nel commento al calcolo di Vittorio di Aquitania che diciamo così offre una trattazione molto sistematica sul modo sullo svolgimento delle operazioni con le frazioni ma tra gli altri ci tenevo anche a citare Giovanni di Liniere Johannes de Lineris che nel XIV secolo con il suo algoritmus de minutis introduce proprio la forma con cui conosciamo e usiamo ancora oggi le frazioni cioè quella numeratore e denominatore nel nel corso del XIII secolo questi tipi di aritmetica pratica vengono soppiantati da un altro tipo di aritmetica che si diffonde grazie ai trattati cosiddetti algorismi anche se in realtà è possibile rintracciare un ponte tra una sorta di ponte tra i precedenti tipi di aritmetica pratica e i cosiddetti algorismi nel Liber Abaci di Leonardo Fibonacci nel Liber Abaci ritroviamo ad esempio la stessa terminologia delle frazioni il riferimento all'abaco ma non ovviamente la loquela digitorum allora da dove deriva il nome algorismi il nome algorismi deriva dall'autore arabo di due trattati di aritmetica e uno di algebra ossia al-quarismi scienziato astronomo attivo a Baghdad alla casa del sapere nell'ottavo secolo tra le opere di aritmetica che sono attribuite ad al-quarismi vi sono il calcolo con i numeri indiani e il libro sull'unione e la separazione che vengono tradotti in anzi il calcolo con i numeri indiani viene tradotto in latino con il titolo algoritmi de numero indorum oppure liber al-quarismi de pratica arismetice e dunque a partire da questi trattati l'aritmetica diviene propriamente scienza del calcolo cioè un ars numerandi e le operazioni che vengono introdotte e spiegate non sono più solo quattro ma sono sette ad esempio la moltiplicazione e la divisione l'addizione e la sottrazione la duplicazione e il dimezzamento e anche l'estrazione di radice tutte le operazioni sono svolte impiegando in questo caso la notazione arabo-indiana cosiddetta occidentale e secondo il sistema posizionale ovviamente su base decimale come ho già detto in seguito appunto alle traduzioni latine dei testi di Alcuarismi ricordo che il Liber Augmenti et Diminutionis dunque la traduzione latina di questo testo è stata edita e rimane edita unicamente da Baldassarre Boncompagni nel 1857 e a partire da questi da queste traduzioni dei dei testi si diffonde nell'occidente latino diciamo così una trattazione cosiddetta dei algorismi e tra gli autori possiamo menzionare a titolo di esempio ancora una volta Alessandro di Bilgeo con il suo Carmen de Algorismo che in realtà è appunto un poema che introduce alla notazione arabo-indiana ma sempre nel XIII secolo Sacro Bosco con il suo Algorismus Vulgari Garis ora vi sarebbe in realtà una sesta parte in questa mia panoramica delle declinazioni dell'aritmetica una parte in realtà dell'aritmetica pratica che può ancora essere considerata e una parte che non ho incluso fin dall'inizio perché si situa al confine tra fisica e matematica cioè tra aritmetica pratica più precisamente e fisica e mi riferisco in particolar modo ai trattati di filosofia naturale più specificamente di cinetica cioè quelli che affrontano la questione del movimento e nei quali si assiste a un rinnovamento dello studio della filosofia naturale tramite l'introduzione di ragionamenti e strumenti di tipo matematico la teoria delle proporzioni che viene esposta in questi trattati di filosofia naturale mira a spiegare la razionalità matematica sottesa al fenomeno del moto e più precisamente al rapporto tra velocità potenza del motore e resistenza del mobile nelle parti introduttive di questi trattati si dedicano ampie sezioni sezioni piuttosto ampie ai fondamenti della teoria delle proporzioni sulla base principalmente di due testi da una parte il di aritmetica di Boezio e dall'altra i libri 5 e 7 cioè i libri aritmetici degli elementi di Euclide e tra i tanti autori tardo-medievali che si sono interessati di cinetica possiamo ricordare almeno in questo caso Thomas Bradwarding con il suo De Proporzionibus Velocitatum in Motibus cioè sulle proporzioni delle velocità nei movimenti o nei moti e ancora nel XIV secolo il De Proporzionibus Proporzionum cioè sui rapporti dei rapporti di Oresme ora eccezion fatta per questa parte finale dell'aritmetica pratica che concerne lo studio delle proporzioni ed eccezion fatta per la loquela digitorum una cosa interessante che vorrei sottolineare è che in questa mia breve panoramica delle declinazioni dell'aritmetica o parti dell'aritmetica speculativa e pratica mi sono rifatta all'esposizione che ne dà Ruggero Bacone nel XIII secolo nei suoi Comunia Matematica un'opera che può essere definita come una sorta di compendio dei fondamenti o rudimenti delle scienze matematiche inclusa ovviamente l'aritmetica ma potrebbe anche essere definito come uno zibaldone proprio di conoscenze matematiche dell'epoca proprio perché non sono molto sistemate per quanto riguarda l'esposizione che ne dà Bacone in realtà questo raffronto con Bacone è avvenuto ex post cioè dopo aver delineato queste distinzioni ho riscontrato una coerenza con l'analisi di Bacone stesso e quasi tutti gli autori che ho richiamato sono effettivamente menzionati anche da Bacone stesso persino lo sconosciuto è più Bernelino con il suo Liber Abaci ma al di là di questa curiosa nota a margine ovviamente come potete immaginare non ho il tempo di entrare nei dettagli di ogni sfaccettatura dell'aritmetica medievale che ho fin qui richiamato ma magari avremo modo di entrare più nei dettagli e di chiarire quei passaggi del mio intervento che sono rimasti un po' oscuri nel tempo dedicato alle domande e dunque dato il tempo a mia disposizione vorrei soffermarmi su alcuni testi specifici e più in particolare su alcuni passaggi filosoficamente rilevanti ma siccome vorrei mostrarvi una svolta che avviene nel XIII secolo nella trattazione dell'aritmetica vorrei partire da il testo che appunto è necessario conoscere prima di cogliere questo tipo di svolta e comincerei appunto con un testo che è particolarmente importante in generale per lo sviluppo della trattazione dell'aritmetica speculativa ma anche di quella pratica per tutto il Medioevo e in realtà anche oltre sto parlando del De Aritmetica di Boezio cominciamo allora con qualche nozione preliminare per inquadrare quest'opera il De Aritmetica di Boezio è una parafrasi abbastanza libera dell'introduzione all'aritmetica di Nicomaco di Gerasa neopitagorico del secondo secolo dopo Cristo sapendo allora che si tratta di una parafrasi di uno scritto neopitagorico non sorprende rilevare come le riflessioni di Boezio sulla disciplina aritmetica e più ancora sul numero rientri in appiano titolo nel paradigma neopitagorico ma vediamo rapidamente quali sono i contenuti del De Aritmetica senza farci impressionare dalla densità di questa slide questo testo consta di due libri che a loro volta sono divisi in una trentina di capitoli ciascuno e tuttavia questa partizione in libri e in capitoli non aiuta molto il lettore nella fruizione dei contenuti quindi quella che vedete in questo caso è la mia rielaborazione dei contenuti dell'Aritmetica di Boezio perché per esporre appunto i contenuti in maniera più chiara è conveniente dividere tematicamente il testo in cinque sezioni e mi attardo un po' sui contenuti perché sono appunto gli stessi contenuti che fanno da base alle successive trattazioni dell'Aritmetica speculativa sicuramente per tutti i secoli nel Medioevo la prima sezione è quella che è filosoficamente più rilevante perché dedicata all'epistemologia dell'Aritmetica e alla metafisica dei numeri in essa Boezio introduce il famoso o il fortunatissimo termine quadrivium cioè questa quadruplice via delle matematiche che serve appunto ad arrivare alla conoscenza di ciò che è immutabile ad arrivare alla sapienza che è conoscenza di ciò che è immutabile cosa è immutabile le essenze che sono nella trattazione di Boezio le essenze risultano sovrapponibili quasi del tutto alle categorie aristoteliche e hanno appunto uno statuto diciamo non sono soggette ad alcun cambiamento sempre in questa sezione Boezio specifica quello che è l'oggetto della matematica a seconda delle cosiddette gemine partes dell'essenza della quantità che sono appunto discreto e continuo e allora a seconda che il discreto sia inteso per sé cioè indipendentemente da altro il discreto è oggetto quel discreto quel tipo di moltitudine in sé per sé è oggetto dell'aritmetica se invece posta in relazione ad altra quantità diviene oggetto della musica stessa questione per il continuo se il continuo è inteso per sé cioè indipendentemente da un altro elemento è oggetto della geometria se è posto in relazione al movimento è oggetto dell'astronomia e sempre in questa sezione ritroviamo un approfondimento diciamo così sul numero nella seconda sezione tematica Boezio tratta della introduce la classificazione dei numeri una macro le due macro categorie per classificare i numeri sono quelle del pari e del dispari e ci sono delle altre sottodivisioni per quanto riguarda sia il pari che il dispari allora avremo il parimenti pari il parimenti dispari l'imparimenti pari ma senza entrare troppo nei dettagli per quanto riguarda le divisioni del pari e del dispari ma anche l'altra classificazione i numeri perfetti imperfetti e più che perfetti ciò che conta è la la divisibilità e dunque l'individuazione delle aliquote dei fattori che che fanno appunto i numeri per fare un esempio di come in realtà queste divisioni più che sul pari e sul dispari siano fondate sui fattori che restituiscono i numeri sui fattori appunto che costituiscono i numeri vi faccio l'esempio dei numeri perfetti tra i numeri perfetti nella decina vi è il 6 e allora per individuare il numero perfetto è necessario conoscere i fattori dello stesso il numero perfetto 6 è perfetto perché corrisponde alla somma dei suoi fattori dunque 1 più 2 più 3 fa appunto 6 ma senza scendere in altri dettagli la terza sezione è dedicata ai rapporti alle proporziones tra numeri e Boezio ovviamente sulla scorta di Nicomaco individua 5 rapporti di ineguaglianza nel linguaggio matematico moderno rimane soltanto la definizione di multiplo e sono scomparsi gli altri tipi di rapporti come il super particolare il super parziente e il multiplo super particolare e il multiplo super parziente non insomma non mi pare il caso di forse anche un po' inutile ai fini della nostra trattazione dedicare troppo tempo alle definizioni di questi di questi rapporti di ineguaglianza rapporti di ineguaglianza che comunque vengono impiegati nella cosiddetta regola di adrasto che è un insieme di regole aritmetiche che consentono di derivare da una terna di numeri che esprime il rapporto di uguaglianza cioè uno a uno tutti gli altri rapporti di ineguaglianza la quarta sezione indaga nella quarta sezione Boezo indaga la quantità per sé e dunque tratta dei numeri cosiddetti geometrici che sono quei numeri che possono essere rappresentati secondo figure geometriche piane e solide allora avremo numeri lineari triangolari quadrati eccetera così come avremo dei numeri piramidali cubici e sferici nell'ultima sezione tematica che io ho individuato l'oggetto della trattazione sono le proporzioni proporzioni ovvero le proporzionalità tess bene sono principalmente tre quella aritmetica quella geometrica e armonica allora vi ho ho voluto soffermarmi sui contenuti di Boezio cercando di fare un po' di ordine nella sua trattazione perché vorrei appunto introdurre una svolta che come vi ho detto accade nel tredicesimo secolo nello studio e nella trattazione dell'aritmetica speculativa e e per farla appunto era necessario conoscere avere un po' di familiarità con con il di aritmetica stesso e la svolta appunto a cui ho fatto cenno si ha con il De Elementis Aritmetice Artis di Giordano Nemorario e vorrei introdurre appunto questa svolta nell'aritmetica attraverso le parole di Bacone dunque parafrasando le parole di Bacone che trovate appunto in latino in questa slide e quando Bacone si trova a introdurre l'aritmetica speculativa nei comuni a matematica ci dice che questa disciplina tratta delle specie dei numeri e delle passiones numerorum cioè degli attributi se così vogliamo dire e tratta anche delle cause da cui deriva ciò che è utile nelle scienze e nelle cose materiali questa affermazione ovviamente ha dei risvolti molto importanti per quanto riguarda il pensiero di Bacone in generale di cui però non ci occupiamo adesso questa le le species numerorum e le passiones numerorum sono trattate proprio da Euclide e Boezio dunque questa disciplina è stata trattata da Euclide e Boezio presentando una spiegazione propter quad cioè delle cause ma sulle cause ma anche da Marziano Capella attraverso il modo della narrazione dunque soffermandosi non sul propter quad ma sul quia ma sebbene Boezio non proceda nel suo testo per dimostrazioni come invece fa Giordano tuttavia la cogenza delle dimostrazioni di Giordano dunque la Virtus Demostrationum Giordani deriva in qualche modo da Boezio e dalle sue fonti per cui l'idea aritmetica di Boezio ci dice Bacone è un ottimo libro e più utile di quello di Giordano perché poche delle cose che sono da dimostrare circa i numeri rientrano effettivamente nel modo di dimostrare scelto da Giordano e dunque a detta di Bacone nel suo libro nel libro di Giordano ci sono molte cose superflue e al di là di questo giudizio tranchant di Bacone che comunque si appoggia a Giordano chiaramente per i suoi comuni a matematica la cosa da notare è l'associazione a Giordano di un'esposizione di tipo assiomatico che non contraddistingue invece il trattato di Boezio due parole allora su Giordano e il suo De Elementis Aritmetice Artis allora come è evidente già dal titolo dell'opera l'intento di Giordano è di offrire la versione aritmetica degli elementi di Euclide Giordano in altre parole vuole offrire gli elementi di aritmetica e nel De Elementis Giordano riorganizza i contenuti da una parte dell'aritmetica di Boezio che viene esplicitamente richiamata e dall'altra del libro 7 degli elementi di Euclide che tuttavia non viene citato esplicitamente allora l'aritmetica boeziana ed euclidea sono raccolte e riorganizzate nell'opera di Giordano in modo che le esposizioni derivino da definizioni assiomi e postulati e organizzate secondo proposizioni ognuna delle quali è provvista di una corrispettiva prova tant'è che appunto nella trattazione di Giordano e del De Elementis vengono del tutto a mancare gli esempi numerici perché Giordano predilige l'utilizzo delle lettere una breve panoramica dei contenuti di matrice boeziana ed euclidea è quella che potete vedere in questa slide innanzitutto non a caso i libri in cui è diviso il De Elementis sono dieci come nel caso degli elementi di euclide ma allora nel primo libro ritroviamo gli stessi contenuti a cui ho già fatto cenno analizzando i contenuti del De Aritmetica di Boezio quindi ovviamente vado più veloce nel primo libro Giordano si sofferma sulle definizioni diciamo offre una trattazione delle nozioni di unità numero e parte sulla base soprattutto di euclide nel secondo introduce le proprietà dei rapporti di uguaglianza e disuguaglianza nel terzo si sofferma invece sui numeri primi e composti nel quarto sui numeri proporzionali e i numeri proporzionali cioè dei comuni multiplo e sottomultiplo nel quinto tratta invece la moltiplicazione e la divisione dei rapporti nel sesto i numeri geometrici cosiddetti piani e solidi e così via appunto il pari e il dispari sempre sulla base di euclide ma soprattutto direi in certi casi di Boezio come il caso ad esempio della trattazione nel libro 8 dei numeri figurati ma ancora di più nel libro 9 sui rapporti di disuguaglianza e infine ovviamente sulle proporzioni ma che l'intento di Giordano sia quello di offrire una trattazione assiomatica dell'aritmetica ed è appunto questa la svolta che voglio sottolineare è ancora più evidente proprio dall'organizzazione dei contenuti la stessa partizione in definizioni postulati ovvero petiziones e assiomi comunes animi concepciones si riscontra tanto nel De Elementis di Giordano quanto nella versione latina degli elementi di euclide cosiddetta di Adelardo II probabilmente a opera di Roberto di Chester e come potete vedere dalle immagini che ho tratto dalle edizioni di entrambi i testi in questo caso nella slide vediamo l'edizione di Boussard del De Elementis di Giordano appunto come possiamo vedere dalle immagini che ho tratto direttamente dalle edizioni di entrambi i testi in entrambi i casi cioè sia in Giordano che nella cosiddetta versione Adelardo II ritorna la partizione che ci si aspetta ovviamente nel libro degli elementi di euclide in definizioni postulati e assiomi ancora in definiziones petiziones e comunes animi concepciones e questa corrispondenza rivelerebbe in realtà secondo l'editore del testo ancora una volta Boussard la dipendenza di Giordano nello studio di questa nello studio degli elementi di euclide da questa versione specifica latina cioè quella di Adelardo cosiddetta Adelardo II ecco questo ripensamento dell'aritmetica in termini assiomatici mi pare possa essere inserito anzi mi pare debba essere inserito tra i punti di svolta da tenere in considerazione nella storia di questa disciplina nel Medioevo e in questo modo spero anche di aver dato un po' di continuità al seminario in generale onorando l'incontro della volta precedente dedicato all'aritmetica con Cecilia Panti una differenza fondamentale tra il testo di Giordano e quello di Boezio è che in Giordano viene del tutto a mancare la sezione epistemologica la sezione che contiene la premessa filosofica alla trattazione dei tecnicismi dell'aritmetica e conviene allora dire qualcosa su questa sezione dell'aritmetica di Boezio queste premesse filosofiche possono essere classificate come neopitagoriche e questo neopitagorismo che emerge dal de aritmetica di Boezio si articola in tre punti principali dal punto di vista epistemologico epistemologico lo studio dell'aritmetica e più in generale delle matematiche rappresenta il primo passo verso la sapienza che è conoscenza delle essenze come ho già detto poco fa le essenze appunto sono l'oggetto specifico del sapere queste sono menzionate da Boezio e corrispondono come dicevo alle categorie aristoteliche non sono qualcosa di mutevole ma persistono sempre nella loro inalterabilità cioè nell'inalterabilità della loro natura allora porre a fondamento del sapere filosofico le matematiche significa intraprendere il percorso verso la sapienza con lo studio dell'essenza della quantità un secondo punto che marca il neopitagorismo di Boezio concerne l'ontologia dei numeri questi si collocano i numeri si collocano a un livello intermedio tra Dio stesso e le creature e anch'essi non sono soggetti al cambiamento infine da un punto di vista metafisico i numeri rappresentano il principale paradigma exemplar o modello con cui Dio struttura l'intero universo i numeri rappresentano delle condizioni metafisiche per il dipanarsi e il susseguirsi di tutti i fenomeni fisici e più in generale perché ogni creatura sia in armonia con l'universo stesso questi tre punti si ritrovano ovviamente in passaggi specifici del Dea Aritmetica di Boezio che vado brevemente a parafrasare in questo primo caso Boezio introduce tanto l'elemento metafisico quanto quello che ho definito ontologico per quanto riguarda i numeri e Boezio appunto ci dice omnia quecunque tutte le cose che sono state edificate o fondate diciamo così dalla natura originariamente sembrano essere formate secondo la razionalità dei numeri construtta sunt numerorum vident urrazione formata cioè secondo il sistema dei numeri se così vogliamo tradurre razio il numero infatti fu il principale exemplar modello nell'animo del creatore nella mente del creatore ed è da questo sistema dei numeri che deriva la moltitudine la molteplicità dei quattro elementi la successione dei tempi il moto degli astri e la rivoluzione del cielo e ancora poiché le cose stanno così e poiché la stabilità lo status omnium lo status dell'universo è fondato sul legame dei numeri sulla collegazione numerorum è necessario che lo stesso numero si mantenga sempre ugualmente nella sua sostanza se sia bentham e qualità substanzia permanere e ancora un altro passaggio vertente sull'elemento epistemologico della trattazione dell'aritmetica è quello che vediamo in quest'altra slide dopo aver introdotto la classica quadripartizione delle discipline matematiche Boezio afferma che è certo che chiunque ometta o non consideri queste discipline perde l'intero sapere filosofico questa quadruplice via cioè il quadruvium delle discipline matematiche che sono appunto aritmetica musica geometria e astronomia questa quadruplice via è quella per cui si devono incamminare coloro la cui mente più superiore è condotta a partire dai sensi che sono stati creati con noi fino alle cose più certe dell'intelligenza intelligenza e cerziora ci tenevo a richiamare proprio questi due passi dell'aritmetica di Boezio perché se da un lato queste riflessioni vengono del tutto a mancare in Giordano e nel suo De Elementis Aritmetice Artis sono tuttavia recuperati in altre opere di aritmetica pratica e più precisamente in un algorismo e in un trattato di meccanica o cinetica e da chi viene compiuto questo recupero di questi elementi neopitagorici questi elementi sono recuperati nel XIII e XIV secolo da Sacro Bosco nel suo Algorismus Bulgaris e da Thomas Bradwardin nel trattato sulle proporzioni dunque come già diceva a differenza di Giordano che elimina totalmente queste premesse più filosofiche dalla sua trattazione Sacro Bosco e Bradwardin introducono le loro trattazioni sull'Ars Numerandi e sulla cinetica proprio richiamandosi esplicitamente a Boezio e a quelli che io ho definito elementi di neopitagorismo Sacro Bosco appunto autore dell'Algorismus Vulgaris è ben più noto per il suo trattato astronomico de Sfera ma ovviamente quello che a noi interessa di più è il suo Algorismus che è un trattato di aritmetica pratica che vanta una diffusione molto ampia nel Medioevo dovuta al suo impiego come testo universitario e in apertura del suo Algorismus Sacro Bosco inserisce subito una citazione del De Aritmetica di Boezio e come possiamo vedere dal testo che ho selezionato che vi ho riportato sulla slide nell'incipit stesso dell'Algorismus Vulgaris ritroviamo proprio l'elemento che ho definito come metafisico sull'originaria formazione di tutte le cose secondo il sistema dei numeri e allora parafraso velocemente il passo l'incipit riguarda proprio la stessa traduzione del De Aritmetica di Boezio dunque tutte le cose che sono state fondate edificate dalla natura originariamente sembrano essere formate secondo la razionalità dei numeri secondo il sistema dei numeri ed essendo le cose in questo modo così cioè coerentemente alla loro altrettanto coerentemente alla loro formazione devono essere conosciute per cui l'Arts numerandi scienziam numerandi oh no pardon l'Arts numerandi est operativa dunque l'Arts numerandi è operativa cioè coinvolta in tutta la conoscenza delle cose questa scienza delle operazioni è stata fondata dal filosofo Algus da cui il nome Algorismus ossia arte del calcolo ossia introduzione al numero introduzio in numerum ma la differenza tra Sacro Bosco e Boezio diviene palese nelle righe immediatamente successive riguarda proprio la concezione del numero dal momento che Boezio applica gli elementi della filosofia aristotelica per appunto concepire il numero il numero come possiamo leggere si rende noto formalmente e materialmente formalmente il numero è concepito come la moltitudine che scaturisce dall'aggregazione delle singole unità mentre materialmente il numero è concepito come singole unità insieme collecte ma se volessimo un po' rielaborare queste parole di Sacro Bosco potremmo dire che la la forma del numero è il tenere insieme le unità che lo compongono aggregatum che è appunto il termine che usa Sacro Bosco stesso è un termine tecnico che nei trattati di algorismi indica proprio la somma dunque proprio questa la forma del numero in un certo senso ma la materia dello stesso numero sono invece le singole unità indipendentemente dall'aggregazione stessa ma passiamo ora all'ultimo testo che vorrei presentarmi per vedere appunto sempre come questi elementi dell'aritmetica di Boezio ritornano e in questo caso ritornano in Bradwardin Thomas Bradwardin esponente della prima generazione dei cosiddetti calculatores di Oxford insegna appunto al Merton College tra il 1325 e il 35 e proprio durante questi anni compone le sue principali opere di logica matematica e filosofia naturale tra cui proprio il trattato sulle proporzioni delle velocità nei moti che è un'opera fondamentale per la filosofia naturale del XIV secolo nel trattato sulle proporzioni Bradwardin come dire espone la teoria dei rapporti che era stata già introdotta da Boezio nell'aritmetica ma anche in realtà esposta da Boezio nel suo trattato sulla musica a partire dalla comprensione di questi rapporti e proporzioni Bradwardin reinterpreta la teoria aristotelica del movimento senza andare troppo lontano da quello che è l'oggetto specifico di questo nostro incontro ricordo soltanto che per Aristotele la velocità le velocità dei moti sono in relazione alle loro cause in modo tale che quando una forza che è causa di un moto è moltiplicata allora la velocità del moto stesso è proporzionalmente moltiplicata al contrario quando la resistenza di un moto è moltiplicata proporzionalmente la velocità è ridotta tra le fonti di questo trattato ci sono ovviamente gli elementi di Euclide nella versione però di Campano da Novara il De Elementis Aritmetice Artis di Giordano ma anche il De Aritmetica di Boezio è proprio l'incipit del trattato sulle proporzioni di Bradwardin è molto interessante proprio perché viene richiamato esplicitamente Boezio come si legge appunto in questo testo che vi ho riportato e che parafraso visto che ogni moto successivo è proporzionale a un altro rispetto alla velocità la filosofia naturale che si occupa appunto del moto non può ignorare la proporzione dei moti e le loro velocità e siccome la comprensione di questa materia è necessaria ma anche molto difficile e siccome non è stata trattata in nessuna branca della filosofia ho composto quest'opera sulle proporzioni delle velocità nei moti ed ecco il passo che a noi interessa di più inoltre poiché come dice Boezio nel primo libro del De Aritmetica poiché chiunque omette le scienze matematiche perde l'intero sapere filosofico ho perciò deciso di premettere la trattazione matematica matematicalia premissimus necessaria a questo proposito cioè lo studio del movimento ed ecco mi sembra interessante notare come uno statement neopitagorico o meglio concepito nel contesto di una trattazione dell'aritmetica speculativa di ascendenza neopitagorica ritorni nel XIV secolo per giustificare il fondamento matematico di una trattazione di una teoria fisica bene a questo punto non mi resta che concludere il mio intervento e non direi che si tratta di una vera e propria conclusione visto che il mio intervento è stato piuttosto di natura descrittiva più che argomentativa ma è bene comunque almeno ricapitolare le cose che sono state dette allora abbiamo visto che ci sono diverse forme di aritmetica è possibile distinguere diverse forme di aritmetica in base all'oggetto specifico e alla metodologia che viene applicata abbiamo individuato due paradigmi dell'aritmetica speculativa uno che è riconducibile a Boezio con il suo di aritmetica e un altro che rappresenta appunto una svolta in questo tipo di trattazione dell'aritmetica speculativa rappresentato e introdotto da Giordano Nemorario con il De Elementis Aritmetice Artis con quest'opera si può parlare appunto di aritmetica assiomatica ovviamente sulla scorta degli elementi di Euclide e queste le premesse filosofiche che appunto anticipavano la trattazione aritmetica di Boezio comunque le premesse filosofiche dell'aritmetica vengono a mancare nei trattati di aritmetica speculativa successivi a Boezio non soltanto Giordano in realtà ma anche vengono a mancare anche nell'aritmetica speculativa di Bradwardin stesso dunque è interessante capire perché Bradwardin decide di inserire proprio nel trattato sulle proporzioni e non nel trattato sull'aritmetica speculativa questo tipo di affermazione che risale appunto a Boezio ma queste premesse filosofiche si ritrovano però si ritrovano in trattati di aritmetica pratica come è stato come vi ho mostrato è stato il caso di Sacro Bosco e anche vengono riprese in ambito di cinetica come è stato il caso di Bradwardin io vi ringrazio per l'attenzione non ho inserito dei riferimenti bibliografici ma sono contenta di fornirveli quando volete interrompo la condivisione dello schermo grazie a te per questa presentazione che tu hai diciamo definito descrittiva ma insomma in realtà ci ha dato un quadro estremamente ampio peraltro di una disciplina che insomma è al tempo stesso fondamentale ma un po' trascurata dagli storici della filosofia quindi è stato un contributo davvero importante penso che ci saranno delle domande mentre diciamo do un minimo di tempo perché ci siano interventi io non posso resistere alla tentazione prima di fare un'osservazione secondo di farti una domanda l'osservazione è che pur essendo abituati ai personaggi fantasiosi che Alberto si inventa quando deve appiopare diciamo una qualche citazione o un'idea a qualcuno che non sa chi sia pensare che Algorismus venga dal maestro Algus è veramente magnifica questa non la sapevo ed è bellissima invece la domanda è appunto una curiosità ma una curiosità cui davvero non posso resistere tu hai fatto cenno al fatto che quando diciamo si discute di queste pratiche di calcolo si e si praticano queste forme di calcolo si utilizzano ovviamente le dita e la mano ma anche altre parti del corpo e allora qualche dettaglio in più ce lo devi dare insomma perché è troppo interessante ecco la cosa mi aspettavo questa domanda perché appunto anche ovviamente ha suscitato anche la mia curiosità quando ormai forse qualche anno fa mi sono approcciata a questa tematica per la prima volta diciamo che è possibile contare con le mani fino a 999 da quel o forse anche un po' di più dovrei controllare comunque per i numeri molto molto elevati vengono coinvolte anche altre parti del corpo io dovrei avere qualche foto di qualche manoscritto molto simpatico sul tema con qualche illustrazione che è molto più efficace per capire come funzionano queste cose rispetto a quanto possa spiegarvelo io ma temo che ci voglia troppo tempo per ritrovarle però appunto la mia totale ignoranza scusa di interrompo ma diciamo è una pratica che ha a che fare con la memoria cioè serve a memorizzare certi numeri o invece ha una funzione diversa perché questo volevo capire ecco perché mi sembra importante ci sono tante forme di mnemotecnica per varie finalità ecco se qua si dice vabbè io so contare fino a un certo punto e memorizzare i numeri grandi fino a un certo punto utilizzando le ditte dalle mani bene poi uso altre parti del corpo o c'è un significato più profondo e una funzione diversa di questo riferimento alle parti del corpo allora per quanto riguarda le parti del corpo non sono usate per pratiche di mnemotecnica dunque almeno il riferimento alle parti del corpo è solo proprio per far di conto quindi non si tratta di mnemotecnica la mnemotecnica in realtà avrei dovuto fare questa distinzione che tra l'altro appunto poteva essere introdotta proprio con l'immagine che avete riportato sul poster dell'incontro quella è proprio un'immagine che si riferisce alla mnemotecnica dunque al contare al memorizzare in realtà i numeri e a far di conto non finalizzata a se stesso ma proprio in ambito computistico almeno nell'immagine che avete scelto che se non sbaglio è di un manoscritto Egerton mentre il manoscritto Vaticano che ho riportato invece nel nel mio powerpoint interessa proprio la pratica del del contare con le dita e di far di conto cioè di moltiplicare in particolar modo con con le dita e appunto proprio la stessa tecnica la stessa pratica che viene riportata in Beda il venerabile da Beda il venerabile e se non sbaglio quel manoscritto Vaticano che ho selezionato è proprio se non contiene tutto il detempo rumorazione contiene almeno un estratto del detempo rumorazione comunque appunto c'è da fare il punto è questo vi è una distinzione tra mnemotecnica e calcolo mnemotecnica viene impiegata per appunto memorizzare i numeri che ricorrono appunto sulle dita soprattutto in ambito computistico altra questione è il far di conto che può interessare anche le altre parti del corpo via via ovviamente che ci sono numeri più grandi ma prometto di ritrovare quel manoscritto ben illustrato per farvi capire meglio grazie grazie direi Cecilia poi Stefano poi Andrea grazie grazie Clelia per questa davvero ricchissima seminario pieno di spunti per quanto mi riguarda di tante domande però mi limito ovviamente la prima in realtà è un'annotazione sulla questione che è già stata richiamata proprio ora rispetto alle tecniche mnemoniche attraverso la mano bisogna senz'altro citare la ben nota mano guidoniana per quanto riguarda la musica quindi non solo i numeri ma anche le altezze delle note che grazie a Guido D'Arezzo e insomma comunque la tecnica già era nota precedentemente vengono poi segnate appunto attraverso la mano e sempre a proposito dell'uso dell'impiego del corpo ma poi in particolare delle mani penso valga la pena richiamare ancora una volta Marziano Capella e l'immagine che ci dà di aritmetica che ha le mani sempre in movimento è un'immagine secondo me bellissima che fa capire proprio come nella matematica la mano sia fondamentale queste mani continuamente appunto in movimento e che continuamente contano però vabbè questa era solo una notazione e invece due cose principali vorrei vorrei chiederti la prima è una cosa che in realtà sulla quale mi sono resa conto proprio attraverso la lettura che hai fatto e non ci avevo finora mai pensato e cioè quando Boezio introduce proprio nel De Aritmetica la distinzione elementi tempi e movimenti degli astri per sottolineare la ratio numerorum in realtà gli stessi elementi tempi e movimenti degli astri sono le tre parti che definiscono la musica mondana la musica del mondo mi chiedevo se tu avevi notato questa relazione io non ci avevo mai fatto caso e mi ha fatto piacere appunto così scoprirla in qualche modo in questo momento poi l'altra cosa invece che ti volevo chiedere e questa è un pochino forse più articolata e mi scuso ma cerco di essere brevissima riguarda la teoria delle proporzioni allora tu l'hai messa come sesta parte della tua introduzione alla teoria del numero però l'hai messa come sesta parte in qualche modo mettendola e non mettendola ora la teoria delle proporzioni mi chiedo fa davvero parte dell'aritmetica o piuttosto fa parte della musica perché questa domanda ecco perché di fatto perché di fatto è la parte che anche nella trattazione del de aritmetica di Boezio viene poi ripresa praticamente pari pari anche nel de musica quindi forse la sua pertinenza è più al contesto del numero relato che al contesto del numero come tale e sempre però a proposito della delle proporzioni che quindi hanno a che fare con la musica e probabilmente hanno a che fare anche con la geometria perché perché poi di fatto è anche la proporzione tra grandezze che costituisce poi il contesto di riferimento volevo tornare un attimo su Bradwardin perché tu l'hai introdotto dicendo che appunto la sua teoria delle proporzioni viene esaminata nel trattato di cinetica cioè nel trattato a proposito appunto delle variazioni insomma dei movimenti delle proporzioni appunto dei movimenti mi chiedo però se questa se alla base di questo trattato non ci sia piuttosto appunto la geometria invece che l'aritmetica questo perché te lo chiedo perché c'è anche un'altra opera di Bradwardin che è fondamentale cioè il decontinuo e nel decontinuo intendi il trattatus decontinuo proprio il trattatus decontinuo e nel trattatus decontinuo Bradwardin fa una cosa veramente molto strana e cioè parte dalla dalla geometria euclidea e da quindi le definizioni di punto linea superficie volume e poi dopo inserisce dentro le definizioni di atomo di punto e di fatto introduce elementi diciamo che fanno parte del continuo ma lui sottolinea che fanno parte sono gli indivisibili sono gli indivisibili e questi gli servono perché altrimenti lui non può trasformare questa geometria proprio nella geometria cinetica cioè nel modo di rappresentazione e di studio del movimento perché poi parla del movimento della linea eccetera e da lì poi viene fuori la sua famosa insomma teoria della legge del movimento medio nei moti accelerati eccetera eccetera ecco mi dice mi chiedevo se secondo te questa connessione geometria ma in un certo senso anche aritmetica cioè continuo ma nello stesso tempo anche indivisibile non è poi proprio la ragione di fondo che fa di Bradwardin un neopitagorico cioè lui ha bisogno di dover utilizzare l'indivisibile per poter poi parlare di geometria tra l'altro esattamente esatto e quindi di conseguenza di movimento e quindi di questione di filosofia naturale quindi era proprio sul neopitagorismo diciamo strutturale di Bradwardin che mi faceva piacere che tu dicessi qualcosa insomma allora grazie per la lunghezza dell'intervento Cecilia hai fatto praticamente un'altra un'altra spiegazione sicuramente migliore più efficace della mia per quanto riguarda almeno il collegamento tra tra musica e e aritmetica rispondere alla prima domanda è facile perché no non lo sapevo neanch'io non avevo notato neppure io questo collegamento tra i tre elementi appunto che sono determinati dal sistema dei numeri e la musica mondana quindi c'è da vedere insomma un po' meglio di cosa si tratta per quanto riguarda sempre il legame tra teoria delle proporzioni e dunque quella parte dell'aritmetica di Boezio e la musica stessa di Boezio ovviamente il de musica è molto influente cioè si tratta appunto proprio di vedere l'oggetto di quel trattato alla fine sono i rapporti stessi tra i numeri anche se però nel de musica poi la regola di Adrasto con la famosa derivazione insomma la terna di numeri rapporti di uguaglianza e gli altri viene a mancare ma comunque sia non me ne sono occupata perché appunto volevo restare sull'aritmetica ovviamente però è ovvio che aritmetica e musica ma anche aritmetica e geometria sono profondamente collegate per quanto riguarda quello che possiamo chiamare neopitagorismo di Bradwardin devo pensarci perché mi pone una questione molto complessa quindi devo assolutamente rifletterci di più però sì è vero che diciamo geometria aritmetica sembrano sovrapporsi ma sembrano sovrapporsi ora faccio un altro nome che tu conosci benissimo anche in grossa testa e nell'articolo di Robert in cui spiega appunto proprio che concepire la linea come una successione di punti presuppone la rappresentazione appunto di quel tipo di segmento geometrico secondo una serie numerica quindi è ovvio che questo sostrato neopitagorico ritorna e riemerge nel momento in cui si pensa alla linea come costituita di punti geometrici e dunque si ha poi il passaggio con gli indivisibili però non me la sento dire di più perché appunto come sai è una cosa che sto ancora studiando e su cui devo riflettere ancora ancora molto prima di esprimermi un po' più dettagliatamente grazie grazie Stefano mi sembra sì mi sentite ho la connessione un po' instabile grazie mille dell'intervento bellissimo stavo pensando anche avrei un sacco di cose da chiederti però cerco di essere breve e di venire alle principali la prima una curiosità che mi è venuta mentre Cecilia faceva la domanda anche Luca rispetto alla mano cioè sappiamo che c'è una lunga tradizione che parte da Aristotele e arriva a Giordano Bruno e anche oltre che vede la mano come l'organo degli organi mi incuriosisce sapere visto che so che Tommaso anche nella Sommateologie ogni tanto utilizza questa immagine se nei trattati di aritmetica ricorre ogni tanto questa immagine prima domanda la seconda riguarda il giudizio di Bacone su Giordano e il fatto che lo ritenga superfluo diciamo vittima o peccante di curiosità è dovuto al fatto che usi un metodo euclideo diciamo perché magari è difficile da leggere un caso famoso nella storia della filosofia è l'etica more geometrico di Spinoza il caso più famoso e Borges che era Borges diceva che per leggere l'etica serve uno sforzo eroico ora magari anche un medievale leggendo i Dementis poteva magari trovarlo molto difficile da leggere quindi magari anche l'accusa di troppo materiale potrebbe derivare dall'utilizzo di questo metodo mi chiedo poi rispetto alla parte sulle proporzioni l'ho trovata particolarmente affascinante anche dopo quello che ha detto Cecilia ma insomma quando si studia filosofia al liceo sui manuali spesso si trova detto e affermato che l'aritmetizzazione o matematizzazione del mondo è un qualcosa che diciamo arriva nel 5-600 invece diciamo ci hai fatto vedere che già in alcuni dei passaggi che ci hai mostrato è un mito storiografico forse da smantellare già anche a livello diciamo dei manuali potremmo essere più più precisi e basta e poi in generale insomma quelle che tu hai chiamato le premesse filosofiche di Boezio quelle che poi ritornano insomma anche il valore filosofico del numero è uno straordinario mi sembra di aritmetica di Boezio una straordinaria via d'accesso del pensiero di Platone nel Medioevo cioè anche quest'idea del numero come qualcosa di intermedio fra la creatore le creature qualcosa che c'è già nel Platone di Aristotele che c'è è veramente è veramente impressionante da questo punto di vista una leggenda che sappiamo essere una leggenda dice che sulla porta dell'Accademia di Platone c'era scritto non entri chi non sa di geometria o di matematica ci hai mostrato insomma con il tuo intervento che è importante anche anzi fondamentale approfondire anche questi aspetti della cultura per capire meglio il pensiero filosofico di una determinata epoca grazie no grazie grazie per questi questi commenti e questi altri spunti per quanto riguarda la mano come organo insomma diciamo così prediletto adesso come adesso non mi vengono in mente dei riferimenti nei testi che ho frequentato quindi magari non lo escludo dovrei semplicemente controllare ma non mi pare però è interessante e poi la critica di 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 Bacone che Bacone muove a Giordano non credo che sia tanto per la difficoltà nel leggere gli elementi ma credo proprio sia una questione di principio cioè Bacone dice esplicitamente che alcune cose che riguardano i numeri non hanno bisogno di dimostrazione e dunque è superfluo rielaborare assiomaticamente quella parte dell'aritmetica che non ha bisogno di essere assiomatizzata e dunque credo sia più per quello non penso che Bacone avesse difficoltà a leggere e capire soprattutto gli elementi gli elementi di Euclide però ovviamente non posso garantire per tutti gli altri medievali e invece la questione del del numero come diciamo la questione del numero per come è posta da Boezio e come chiave di accesso del platonismo in nel medioevo questo veramente porterebbe a un altro un altro seminario però è chiaro che quando io parlo di neopitagorismo e questo forse avrei dovuto specificarlo quando parlo di pitagorismo parlo sempre anche di platonismo e più nello specifico di medio platonismo è difficile già in epoca tardoantica mettere appunto che cosa sia il neopitagorismo comunque gli specialisti insomma accettano quasi unanimemente che vi sia nel neopitagorismo un forte sostrato medio platonico mi vengono in mente tante cose per quanto riguarda la presenza del platonismo nel di aritmetica di Boezio e dunque questa via di accesso poi nel medioevo dico soltanto una cosa un'altra premessa o meglio implicazione filosofica che riguarda precisamente la lettura del timeo consiste nel proprio nella sezione in cui Boezio tratta dei cinque rapporti di uguaglianza e più in generale della regola di Adrasto che io definisco regola di Adrasto per semplicità in quel caso Boezio dice esplicitamente che quelle regole sono utili se si vuole comprendere la struttura matematica dell'anima del mondo l'anima del mondo ovviamente nel timeo consta di due serie numeriche arrangiate secondo ancora una volta delle proporzioni specifiche che avrà anche in quel caso una fortuna molto grande nel medioevo però ecco non so se queste mie riflessioni un po' sparse aiutano un po' a districarsi nelle due questioni però ecco grazie mille ti ascolterei ancora per molto saranno altre occasioni presto grazie comunque adesso la parola è Andrea Fiamma che essendo platonico ritornerà così a occhio in argomento quindi prego Andrea bene dopo questa presentazione diciamo che le aspettative sono allora io ringrazio Clelia devo dire che anche io avrei tantissime domande mi limito a tre perché vedo che Stefano ne ha fatte tre e poi perché è un numero che platonicamente diciamo qualcosa ci dice e allora intanto volevo tornare su anche io ecco su questo tema delle delle proporzioni mi colpiva il fatto che Bradwardin introducesse gli elementi dell'ontologia di Boezio proprio sulla in relazione al tema delle proporzioni e mi chiedevo se avesse anche una qualche eco in diciamo in relazione all'agnosiologia cioè se dal punto di vista di Bradwardin come dire la proporzione dopo essere stata definita in termini ontologici non avesse anche una insomma non ci dicesse anche qualcosa su come noi conosciamo le cose no perché se fosse così allora a quel punto saremmo davanti a una come dire a un'anticipazione della dotta ignoranza di Cusano dove insomma all'inizio nei primi libri spiega proprio che la nostra mente funziona attraverso le proporzioni e utilizza il numero proprio perché il numero è altri non è che il funzionamento stesso della mente divina per cui diciamo sarebbe veramente interessante seconda seconda domanda il nome di Nemorario ricordo di averlo letto in Pierre Duhem il riferimento se non sbaglio alla questione dei pesi se non sbaglio c'è un trattato sui pesi allora volevo chiederti se questo trattato in generale se questo autore ha avuto un po' anche come dire dei lettori nel quindicesimo secolo sai che c'è questo testo dei statici experimentis di Cusano di cui insomma sappiamo veramente poco e tra l'altro nella stessa edizione critica non ci sono particolari riferimenti alla tradizione dalla quale Cusano ha attinto e quindi insomma questo potrebbe essere una strada importante poi l'ultima domanda che forse è un po' come dire più concettuale ecco passami il termine parlavi di tradizione assiomatica e allora nel quindicesimo secolo c'è una ricezione abbastanza sostanziosa del tema della tradizione assiomatica e un po' ecco questi autori di cui anch'io mi sono mi sono occupato cioè in particolare gli albertisti menzionano Boezio e soprattutto il Debdomadibus come quel tentativo e lo spiegano come il tentativo di costruire un modello di scienza alternativa a quella aristotelica e che funzionasse secondo la la costruzione assiomatica euclidea e però tutti questi autori hanno come riferimento dal punto di vista ontologico Proclo mi colpiva il fatto che Proclo insomma è un nome che tu non hai mai non hai mai menzionato allora ti chiedevo volevo chiederti se Bradwardin insomma conoscesse l'elementazione teologica e se c'è una qualche possibile di riferimento anche la tradizione più specificatamente Procliana e non come dire in generale Platonica ecco mi mi taccio mi gueto grazie grazie allora non so se sto a rispondere a tutto anzi mi sa proprio di no allora per quanto riguarda la rilevanza della proporzione in ambito ignoseologico non te lo so dire ti posso dire che non si tratta di proporzione quando si parla di oggetti matematici dunque non si danno proporzioni in base a cui si acquisisce e si ha cognizione di oggetti matematici questo lo escluderei cioè si parla semplicemente di astrazione ma non sulla base di proporzioni preesistenti non so come dire quindi non lo so sono onesta non dovrei cercare ancora meglio il trattato dei pesi di Giordano sì l'ho letto proprio in questi giorni ma non mi sono soffermata sulla ricezione né sul trattato né sulla sua ricezione ovviamente ma temo e questa forse è una cosa che mi sento di dire temo che la terminologia che usa Giordano sia comunque la stessa che si rifà anche al alla terminologia delle frazioni quindi scripuli once minuzie in generale ritornano in questi trattati anche anche dopo il Medioevo e però ecco non non ti so dire altro onestamente proprio perché se si parla diciamo la la scienza dei pesi la concepisco più come tecnica poi è ovvio che molti trattati anche che riguardano operazioni mercantili o che sono più vicine alle scuole di Abaco tardo medievali soprattutto quelle italiane ho cercato di lasciarli un po' un po' più a margine quindi non saprei per quanto riguarda questo trattato adesso mi sfugge anche il nome latino ma ritornerà la terza domanda che mi hai posto è difficilissima allora per quanto riguarda l'assiomatica una cosa che volevo sottolineare durante la presentazione che poi però mi ha sfuggita è ovviamente la rilevanza l'importanza del Debdomadibus di Boezio una cosa su tutti per far capire quanto in realtà Euclide influenza Boezio e Boezio poi influenza di nuovo le tradizioni le traduzioni latine di Euclide tra cui quella di cosiddetta Adelardo secondo ma non soltanto ovviamente nel Debdomadibus Boezio parla di communes animi concepciones che sono appunto quegli assiomi da cui parte per determinare se le sostanze in ciò che sono sono buone o lo sono per partecipazione ovviamente Boezio trae quella definizione quella concezione di assioma dalla geometria di Euclide che sicuramente ha letto d'altronde Boezio autore di una geometria vera e propria che però è al confine tra l'altro con la trattatistica di Abbaco ma questa è un'altra storia il Debdomadibus di Boezio influenza almeno a livello terminologico quelle che sono appunto le diverse parti delle proposizioni dei libri di Euclide abbiamo visto appunto ritornano queste communes animi concepciones nella versione di Adelardo e di riflesso anche in Giordano Proclo certo un attore importantissimo non so non ti so dire se e fino a che punto Brad Wardin avesse familiarità con Proclo non so fino a che punto ma quindi non lo so se posso devo un attimo devo pensarci un po' di più ma grazie per queste domande grazie anche io penso che si dovrebbe ovviamente verificare sul testo ma così a fiuto direi che una conoscenza di Proclo abbastanza profonda sicuramente c'è e nel caso di Brad Wardin peraltro c'è una componente neopitagorica c'è una componente platonica c'è una componente ermetica da tenere presente quindi il discorso su di lui sarebbe assai complesso vedo però che c'è una richiesta di domanda di Nicoletta Rozza quindi prego grazie innanzitutto Clelia ti volevo ringraziare per questo escursus che ci hai regalato davvero densissimo impresa davvero difficilissima e poi ti volevo fare una domanda che è un po' una provocazione quando tu ci hai fatto vedere l'algorismo di Sacrobosco un'opera di aritmetica pratica così dice Bacone gli algorismi sono opere di aritmetica pratica che però ecco mi comincio con una citazione di Boezio che Bacone dice aritmetica teorica l'unica degna aritmetica teorica le altre non servono se abbiamo Boezio basta secondo te stiamo assistendo ad un dibattito nel XIII secolo sullo statuto dell'aritmetica speculativa e sullo statuto dell'aritmetica pratica perché Bacone prende una posizione su questo argomento ma è un argomento che io non ho trovato esplicitato per ora da nessuna parte però ho la sensazione che ogni intellettuale in qualche modo dica la sua senza dirlo Sacro Bosco che mi fa iniziare un'opera di aritmetica pratica anzi di algorismo quindi un termine non innocuo con una citazione di Boezio per me interessante non lo so la domanda è difficile non credo ci sia una risposta unica credo che la questione debba essere ancora per buona parte indagata però mi chiedevo quale fosse il tuo punto di vista e poi a Stefano volevo dire a proposito della mano c'è un articolo di Quacquarelli degli anni 70 si trova in rete è carino offre molti spunti sulla loquella di Gitorum sì grazie c'è open access sì ancora meglio c'è open access allora Nicoletta grazie per questa domanda in realtà è proprio uno spunto su cui devo riflettere uno spunto di riflessione non so se ci sia un dibattito in realtà nel XIII secolo d'altronde i comuni a matematica non erano un testo diciamo rivolto al grande pubblico Cecilia mi correggerà se sbaglio comunque data la natura dell'opera non penso che si rivolgesse cioè non penso che si aspettasse che qualcun altro suo contemporaneo lo leggesse e eventualmente replicasse quindi non saprei però sì per aver inserito appunto una una precisazione del genere magari aveva in mente qualcosa di più un dibattito preesistente non ti so dire ovviamente però mi sembra una buona intuizione sicuramente da verificare e da vedere e da vedere se se da vedere chi appunto accoglie certe premesse filosofiche nell'aritmetica non speculativa e chi non lo fa nell'aritmetica invece speculativa comunque in generale chissà se c'era un dibattito non lo so adesso me lo chiedo anch'io davvero magari sarebbe bello c'è un dibattito su un dibattito su tu come diresti se diciamo dell'aritmetica speculativa i domini della pratica perché Bacone lo fa cioè Bacone ha una posizione però non nel tredicesimo secolo poi non so chi altri prenda posizione in maniera così innetta poi mi viene un sacro bosco che in un trattato che si chiama algorismo mi fa la situazione per me è una cosa forte però sì in effetti sì non è proprio uno non se l'aspetta diciamo però è anche vero Cecilia vai che ti ho visto forse è una domanda molto interessante che ha formulato Nicoletta su Bacone forse si può dire che Bacone è polemico proprio a prescindere da da chi si rivolga molto probabilmente proprio a se stesso nel senso che ha bisogno di insomma creare tutte le premesse per poi fare i suoi vari stravolgimenti a livello metodologico però forse ma ragionando così può darsi che sia solo che sia un ragionamento del tutto sbagliato può darsi che invece questo suo ripensamento della matematica gli serva proprio in modo strumentale a lui per il progetto che magari Gianni Comunia matematica sta costruendo perché per Bacone l'aritmetica in particolare è una disciplina è la disciplina base addirittura viene prima della grammatica è proprio il fondamento imprescindibile per qualsiasi tipo di conoscenza per cui Bacone ha la necessità di poterla ricollocare e magari nell'ottica di questa visione che lui ha delle scienze dove appunto l'aritmetica gli serve come strumento base per la costruzione di tutti gli altri saperi è forse questa domanda che ha posto molto interessante appunto che ha posto Nicoletta potrebbe essere potrebbe essere guardata potrebbe essere interroga sviluppata con più attenzione sì grazie davvero grazie non so se ci sono altre domande o osservazioni vedo una mano alzata ma non so se è una mano precedente è ancora quella di Stefano credo quindi io avevo una curiosità che però in parte quest'ultima sezione di dibattito ha già affrontato premesso che io non sarei entrato facilmente non avrei avuto facile accesso all'Accademia Platonica e appunto capita a molti di noi probabilmente di sognare dopo anni e l'esame di maturità a me capita spesso non sono stati sempre stati 20 anni e regolarmente mi sveglio preoccupato di non aver ripassato trigonometria ma sono rimasto colpito da tantissime cose ti ringrazio molto per la lezione e io stesso non avendo quindi domande diciamo più competenti da porti stavo proprio pensando a se alcuni di questi autori immagino appunto Bacone era l'esempio che era un temente anche a me autori che appunto affrontino temi di aritmetica ma non si occupano istituzionalmente di quella particolare disciplina discutano uno degli aspetti che abbiamo dibattuto più a lungo oggi cioè quello delle diciamo ripartizioni dei domini del sapere fra aritmetiche e le discipline di mitrofe per cui al di là della ripartizione boeziana che tu stesso hai ripreso all'inizio del tuo intervento che ci aveva parlato anche Cecilia se ci siano dei momenti in cui si stabilisce e come quale sia il rapporto che interpore fra le discipline anche in base all'oggetto ci hai presentato una serie di elementi da questo punto di vista mi chiedevo se ci fossero anche da questo punto di vista degli snodi in cui questi confini vengono ridefiniti considerando che appunto poi ci sono delle affinità delle assonanze fra alcuni termini anche tecnici delle discipline che si ritrovano in arte penso alle volte citate come un esanimo di concepzione che ci sono anche nei topic di Boezio che si trovano quindi anche come dire c'è una qualche affinità fra questi aspetti dell'aritmetica e anche le proporzioni l'analogia quindi la retorica allora grazie anche per quest'altra domanda trattazioni che riguardano la partizione delle discipline matematiche sulla base del loro oggetto specifico ora come ora non me ne vengono in mente ma sicuramente ci sono comunque ritorna tantissimo la partizione boeziana ritorna ancora nell'aritmetica speculativa di Bradwarding quindi ritorna forse non so se Nicoletta è ancora qua ma credo che ritorni anche in Fibonacci Fibonacci fa riferimento un calo di tensione ripartizione delle discipline matematiche sì Domenico Gundisalvi sulla base di Alfarabì traduzione di Gerardo da Cremona c'è una bella traduzione italiana di Pozzobon che si trova in commercio perfetto ecco e da lì poi parte tutto un discorso torna anche in Nambacone ma Fibonacci è più ma Gundisalvi anche cioè divide le scienze matematiche in base all'oggetto specifico adesso non ricordo o forse lo fa ma sempre insomma sulla distinzione di Boezio guarda non ricordo Gundisalvi sostanzialmente parafrasa alfora B però sotto però al di là diciamo l'unica cosa che posso richiamare adesso come adesso è la distinzione di diverse discipline non tanto sull'oggetto specifico ma sul processo di astrazione che viene introdotto sempre da Bacone nei comuni a matematica quindi in quel caso a seconda del grado di di astrazione a seconda di a seconda del direi anche del grado di separatezza dell'oggetto che viene astratto e che si conosce e che si studia vengono individuate diverse discipline e qua c'è un articolo di Fabio Seller che proprio analizza quel passo dei comuni grazie peraltro oltre ad aver anticipato il nome di uno dei relatori dei prossimi incontri ti ringrazio per la risposta e ancora di nuovo per l'intervento volevo soltanto aggiungere una nota per i nostri studenti perché a voi tutti è superfluo dirlo ma noi siamo soliti almeno io sono solito quando mi capita di fare lezioni insistere su la concezione medievale piuttosto diffusa di una omologia strutturale fra linguaggio pensiero e realtà per chiamarsi alla dimensione del lobus del verbo un creatore capita molto di insistere su questo aspetto della concezione del mondo della sua struttura tu giustamente richiamandoci all'importanza della tradizione diciamo che con Boezio attraverso il medioevo anche dal punto di vista dell'elemento metafisico dei numeri come i modelli le strutture guardando le quali Dio costituisce la realtà dare l'occasione di ricordare che in effetti anche questo ha una grande fortuna anche nella riflessione teologica nella metafisica medievale basti pensare a il successo e la ripresa di un versetto di sapienza 11-21 che è notissimo che dice che Dio ha risposto tutto secondo misura numero e peso credo che ci sia addirittura Infibonacci citato nel suo scritto ma che si trova veramente da Agostino a Galilei da Agostino a Galilei è vero passando per Bradford il nostro volume di crombi va bene allora grazie a tutti grazie a quanti hanno partecipato al dibattito e grazie soprattutto a Clelia Crialesi per questa ricchissima presentazione e per la disponibilità a rispondere alle nostre domande come ha ricordato Gigi è già stato dedicato il nome di Fabio Seller che farà un intervento prossimamente manderemo ovviamente l'invito come sempre con largo anticipo arrivederci a tutti ho la sensazione che questa sera questa notte Gigi sognerà la maturità e sognerà di essere interrogato in matematica forse qualcuno sognerà di essere interrogato in filosofia con domande sul maestro Algus vedremo come ce la caviamo almeno durante l'incobo d'attorno allora grazie a tutti ancora e ci vediamo prossimamente grazie Clelia grazie buonasera arrivederci arrivederci grazie ciao arrivederci grazie 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 grazie